Adesso andiamo nel vivo di questo tema, allora ve lo dico subito, non ho l'ambizione di affrontare questo tema, di approfondire in tutti i suoi aspetti perché ve lo assicuro il tema è assolutamente vasto, articolato e anche abbastanza complesso. Per cui l'obiettivo nostro è quello di far riuscire stasera da qui con un'idea chiara di cos'è lo smart working o lavoro agile. Lo possiamo chiamare così non solo perché l'IDL lo definisce in questo modo ma perché anche l'Accademia della Trusca due giorni fa ha sancito che questo nome, il lavoro agile, riesce a rispecchiare pienamente il significato dello smart working, quindi lo usiamo da oggi. Quindi l'idea è di far riuscire qui conoscendo l'argomento e possibilmente anche avendo avuto modo di fare delle domande ai nostri relatori per approfondire quelli che sono gli aspetti magari un po' più tecnici o le opportunità, i rischi che potete vedere su questa tematica. Allora, prima di tutto che cos'è lo smart working? Il lavoro agile, lo smart working rappresenta un approccio innovativo all'organizzazione del lavoro. Ho usato una definizione che viene dal Politecnico di Milano, l'ossorgatorio smart working. Alla presentazione di quest'anno l'hanno definita una filosofia manageriale che si traduce in un ripensamento profondo che parte dai processi ambientali ma arriva a toccare le relazioni, la cultura, i valori stessi con cui si identifica un'organizzazione. Quindi parliamo, come dicevo, di un argomento molto vasto e molto complesso. È riduttivo ed è anche un errore pensare al lavoro agile come solamente a una forma di welfare aziendale perché è utile sì per conciliare i tempi di vita delle persone ma non è solo quello e non è neanche giusto limitarlo a quella che è l'idea che il lavoratore possa scegliere se lavorare o meno un giorno a settimana da casa perché anche questa è un'indicativa che è capace dello smart working però, come dicevo, è molto più vasto questo tema. Non esistono ricette universali, per questo l'argomento è complesso. Questo cosa significa? Significa che non esiste un modello che può essere applicato in qualunque tipo di azienda indipendentemente dal business, dal tipo di attività che questa azienda fa, dalle dimensioni. Ogni azienda deve trovare, deve valutare qual è il modello più adatto alle sue caratteristiche in particolar modo tenendo conto di quello che è il livello di mobilità delle sue persone e le caratteristiche tecniche dell'attività che svolgono. Ma in tutte le aziende può essere applicato lo smart working e non solo in tutte le aziende mi correggo subito perché questo è un altro aspetto importante, anche nella pubblica migliorazione e questa è non proprio una novità nel senso che alcune, tipo il Comune di Genova già era partito il Comune di Milano ha una sensibilità molto alta e tra pochi giorni, diciamo febbraio, promuove il terzo anno di fila la giornata nazionale del lavoro agile. Quindi anche nelle pubbliche amministrazioni questo tema è sentito. Però certamente il DDL non solo lo rende un tema implementabile, realizzabile, ma addirittura lo promuove in maniera forte diventa un obiettivo da raggiungere. Ecco, fare smart working davvero, quindi non solo a slogan ma in maniera seria è un percorso lungo e profondo, di continua evoluzione. Quindi è vero che si può decine di partire con lo smart working e magari partire con le prime iniziative anche nel giro di qualche mese, ma per arrivare ad avere un progetto sistemico organico i tempi sono di qualche anno ed è un percorso che non ha un punto di fine, perché è un percorso di continuo miglioramento dell'azienda e dell'organizzazione nel suo complesso. Chiaramente si basa su alcuni elementi, la flessibilità e l'autonomia, in particolar modo nella scelta degli orari e della serie di lavoro. E su un primo valore, la fiducia, si supera l'idea del controllo della persona e si va verso un tema di responsabilizzazione e di fiducia. Quindi cosa significa? Significa che quello che dobbiamo promuovere è un profondo cambiamento culturale in quella che è la concezione del lavoro, cioè si passa da quello che è il lavoro a timbratura di cartellino al lavoro per obiettivi. Già in molte aziende, in specie le più grandi, si lavora già per obiettivi e una parte dello stipendio è legato al raggiungimento degli obiettivi. Qui ovviamente si rafforza questo concetto. Il cambiamento culturale non è solo nella testa del lavoratore, ma è nella testa anche di chi gestisce i lavoratori, perché i responsabili devono imparare ovviamente a attribuire degli obiettivi che siano misurabili e sostenibili e chiaramente a valutare se l'obiettivo è stato meno raggiunto. Quindi quello che va messo in campo ed è l'aspetto più complesso di tutto il tema, è un processo di change management, in particolar modo di quelli che sono i comportamenti e gli stili manageriali di leadership, è qui che sta la vera rivoluzione di questo fenomeno. Che cosa invece non è? Evitiamo un equivoco. Lo smart working non è il lavoro, perché non è la nuova tipologia contrattuale, ma uso la definizione che è andata nel BPL, è una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, in merito ai luoghi e tempi di lavoro. Quindi uno mantiene il proprio contratto e si glane in accordo con l'azienda, ha la possibilità, quando lo ritiene, in accordo con il responsabile, di utilizzare questa modalità di lavoro. Non prevede una postazione remota fissa, questa è la grande differenza rispetto al telelavoro. Quindi non è che il lavoratore deve sempre lavorare dallo stesso posto, nello stesso giorno. Il lavoratore sceglie, questo vi racconto un po' come si sta concretizzando nella maggior parte delle aziende, Vodafone, Aston, ma poi domani sarà il mio primo giorno di smart working. Quindi questo significa che anche a Bologna sta partendo in molte realtà questa modalità organizzativa. Quindi noi di volta in volta sceglieremo la settimana precedente se vogliamo fare una giornata di smart working, concordiamo con il responsabile quale giorno e quale attività riteniamo di fare da casa o poi dall'azienda e poi lavoriamo dove riteniamo, a casa nostra, in uno spazio di co-working, biblioteca, il giardino, dovunque. Poi su questo aspetto di dovunque magari con i nostri redattori approfondiamo perché poi c'è un tema anche di copertura assicurativa e quant'altro. Però diciamo che proprio i principi dello smart working sono quelli di poter scegliere dove poter lavorare. Qualche dato, chiaramente nel nord Europa è molto più diffuso che non in Italia e nel 2013 quando il Politecnico di Milano dava questi numeri. Allora, forme di flessibilità nei luoghi di lavoro, cioè della scelta del luogo di lavoro. L'Italia si posizionava al 25esimo posto su 27 in Europa, quindi solo il 6% dei lavoratori usava il telelavoro almeno il 25% del tempo, un tasso che cerca la metà di quello che succedeva negli altri paesi. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, anche qui il tasso è un po' più alto, siamo al 32%, ma sempre la metà di quello che si verifica in Danimarca, in Svetlia o in Germania. Una bella notizia, le cose stanno migliorando e stanno migliorando in Italia per fortuna abbastanza in fretta. Cosa sta succedendo? Succede che grazie allo smart working, al lavoro agile, che di fatto è molto più flessibile del telelavoro, in maniera molto rapida si sta diffondendo. Ecco, la differenza sta nelle ardeni in cui si sta diffondendo. Si sta diffondendo molto più velocemente nelle ardeni di grandi dimensioni e molto meno in quelle delle piccole e medie imprese. Allora, questi sono i dati. Quindi, come vedete, nel 2014 solo l'8% delle grandi aziende utilizzavano lo smart working. Dopo un anno sono il 17%, quindi sono più che raddoppiati in un anno. Si tratta di grandi aziende con più di 500 dipendenti, di solito del settore alimentare, penso alla Barilla, alla Nestlé in particolare, telecomunicazioni come Vodacon, molte banche, il manifatturiero. Quindi, queste sono più o meno le realtà. Come vedete, il 17% delle aziende lo utilizzano già in maniera organica. Un altro 17% ha iniziato su alcune iniziative particolari, su alcuni asset, e un altro 14% ha già pianificato quando partire. Questo significa che ormai la metà delle grandi aziende ha pianificato di utilizzare lo smart working e un altro 37% non lo ha ancora pianificato, ma vuole farlo. Quindi, questo ci dà un attimo il posto di quello che sarà lo sviluppo, la diffusione di questo fenomeno. Ecco, nel 2005 solo il 5% delle piccole e medie imprese ha invece un progetto di smart working strutturato. Quindi, una su due, addirittura non conosce il fenomeno o non è interessata ad implementarlo. Questo è giusto per darvi alcuni flash. Le leve di progettazione sono tre. Quindi, le iniziative possono essere organizzate su queste tre leve di progettazione principali. I layout fisici. Qua vedete alcune fotografie di aziende che sono già a parere su questo fronte. Quindi, si supra l'idea dello spazio tradizionale open space o un film simbolo. Ci sono anche gli open space, ma vengono affiancati da tutta un'altra serie di locali, come vedete. Concentration room, cabine telefoniche, luoghi informali per fare dei meeting. Questo perché l'obiettivo è quello di consentire ad ogni persona di poter utilizzare degli spazi diversi in base all'esigenza dei vari momenti della giornata. Strumenti tecnologici, digitali. Ovviamente le nuove tecnologie sono alla base di questa rivoluzione. Infine, adeguate poli serventali, come vi dicevo prima, la parte più complessa. Nuovi comportamenti organizzativi. Nuovi stili di leadership. Quali benefici? L'ideale lo dice in maniera chiara. L'obiettivo è incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Questo significa, qui ve li elenco, non ve li dico tutti, sono i principali benefici che chi ha già utilizzato lo smart working come azienda ha riscontrato. Miglioramento della conciliazione dei tempi di vita, del bienessere organizzativo, aumento della motivazione delle persone, maggior coinvolgimento, maggior produttività, ma diminuzione dei costi di trasporto e di struttura. Questo si lega anche alla rivoluzione dell'impatto ambientale. In media, nella nostra azienda ci sarà il 20% di macchine che arrivano di mattina. E, vabbè, una serie di altri benefici. Siamo nell'ottica del green-win, quindi sia l'azienda che il dipendente, che il lavoratore. Ultimo tema, il work-life balance. Come vi dicevo, si collega strettamente, è un colubio molto forte, quello tra smart working e work-life balance, perché si basa sul fatto che cambia l'idea, la concezione della persona nel lavoro. Non conta che tu rimanga in ufficio fino alle 11 di sera, conta che tu raggiunga degli obiettivi. Per aumentare la produttività, le aziende si sono rese conto, con una serie di studi, che in particolar modo per quella cosiddetta generazione Y, i ragazzi nati dopo il 1980, è quasi più importante rispetto a un aumento di stipendio, il fatto di stare bene nella propria azienda, di essere motivati e soprattutto di poter conciliare impegni extra lavorativi con il loro tempo lavorativo. Questo è il colubio vincente anche per la conciliazione che spesso viene vista come un tema femminile. Perché è più potente di altri strumenti di work-life balance? Perché non si indirizza alle donne in maniera pecuniare, ma si indirizza a tutti, perché l'esigenza di conciliare i tempi del lavoro con la vita fuori dal lavoro è un'esigenza che è di tutti gli uomini e delle donne, quindi è particolarmente forte. Alcuni casi, come vi dicevo prima, Barilla, Tetra, PAC, Deutsche Bank, Microsoft, American Express, Unicredit, anche il Comune di Genova, perché come vi dicevo prima, si sta partendo anche sulla pubblica amministrazione. La normativa, con questo chiudo. Il 28 gennaio scorso, quindi pochi giorni fa, il Consiglio dei Ministri ha approvato il QL sul lavoro agile e ha sanato così un vuoto normativo, che aveva anche in qualche modo creato delle difficoltà, o comunque messo a rischio, le aziende più innovative su questo fronte, che ovviamente si muovevano senza avere un quadro normativo chiaro alle spalle. E questo mi riferisco in particolar modo al tema dell'assicurazione dell'INAI e degli infortuni. Questi sono, giusto per elencare, gli aspetti che immagino poi approfondiremo con ciascuno dei relatori, che sono infatti i vari paragrafi, i vari argomenti trattati nel DDL. Quindi si va dagli strumenti, al fatto della non discriminazione per chi sceglie di dare l'armato working, alla sicurezza degli infortuni, all'invio al contratto nazionale del lavoro. Questo è a mio interesse, darvi subito questo quadro sull'argomento. Come vi dicevo, è una rappresentazione, un quadro molto rapido, ma che consentirà, spero, ai nostri relatori poi di poter entrare subito su quello che è il focus del loro intervento. Cosa vogliamo analizzare insieme a loro, in particolar modo adesso insieme ad Alessandro Alverani, a cui passo la parola. Quello che vogliamo iniziare ad analizzare è il punto di vista dei due sindacati, quindi insieme anche a Maurizio Lunghi, su questo nuovo fenomeno. Quindi quali sono le difficili, se ce ne sono, quali listi che si vedono, se il DDL effettivamente risponde a quelle che sono le aspettative della società e del mondo del lavoro su questo aspetto. Direi che è troppo lunga. Vi passo la mano. Un applauso. Grazie.